Ciao ragazzi, quella che state per vedere è l'intervista a due membri di associazioni che fanno parte del cosiddetto movimento Prepper. Io sono Ivano Mingotti, questa è Pizza Talk e ogni settimana portiamo un contenuto, un'intervista su un argomento interessante con un ospite appunto collegato al tema. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti interessanti, per esempio i nudisti che cosa sono, abbiamo parlato di che cosa vuol dire essere comunista ai giorni d'oggi, abbiamo parlato di insomma tantissime cose che trovate sul canale. Quindi non voglio farvi perdere altro tempo e vi lascio alla visione dell'intervista. Buona visione! Ciao Fabrizio, allora prima di tutto direi che ci introduciamo un attimo. Ok, quindi chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi eccetera. Ciao Ivano, io sono Fabrizio Nannini, sono l'autore di Mental Survival, un libro pubblicato da Eurpli sulla psicologia e della sopravvivenza. Mi occupo di sopravvivenza, faccio coaching e sono anche tra le altre cose un Prepper. Ok, che è esattamente il motivo per cui stiamo facendo questa intervista. Quindi che cos'è un Prepper esattamente? Un Prepper attualmente in Italia è una persona che ha una consapevolezza situazionale di tutto quello che lo circonda, affacciandosi anche con un'ottica un pochino più ampia, quindi guardando quella che è la situazione internazionale, guardando quelli che sono i trend sia di andamento a livello mondiale, economico o sociale, per prevedere quelle che potrebbero essere degli eventuali situazioni poco spiacevoli nelle quali potrebbe venire a trovarsi lui e la sua famiglia. È una persona che diciamo si guarda attorno e cerca di capire in maniera più neutrale possibile quali soluzioni intraprendere in caso succeda qualcosa. Ok, quindi diciamo in che tipo di situazioni? Crisi economica, riscaldamento climatico, esattamente da che punto di vista? Allora, fermo restando che il Prepper ha un arcobaleno di sfumature. Ci sono i Prepper americani che sono incentrati più su un discorso di difesa della casa e di armi. Ci sono tantissimi modi di essere Prepper, tra questi si può pensare alla pianificazione delle scorte, alla pianificazione delle attività di sfiltrazione da una zona dove può succedere magari un tumulto sociale o qualcosa che porti a una destabilizzazione temporanea o permanente dell'area nella quale si vive. Abbiamo visto un episodio nel quale parecchie persone hanno pensato ai Prepper che sono stati i primi giorni della pandemia negli anni scorsi quando c'è stato l'assalto ai supermercati. Devo dire che nessun Prepper ha detto, ve l'avevamo detto, però probabilmente in molti lo hanno pensato perché moltissimi di noi hanno vissuto benissimo avendo delle scorte per qualche mese in casa. Ok, quindi la cosa basilare è essere pronti con delle scorte oppure parliamo anche di preparazione alla sopravvivenza? Allora, la prima cosa è la preparazione mentale. Non lo dico per un discorso di conflitto di interesse con il mio libro, però ho avuto in questi anni tantissime riprove del fatto che puoi avere la preparazione tecnica che vuoi, ma se non hai una preparazione mentale, una consapevolezza situazionale che parte da te stesso, da capire chi sei veramente e come reagisci in determinate situazioni e come possono rispondere e come puoi gestire anche i tuoi familiari, perché piace a tutti pensare allo stereotipo della persona che sopravvive da sola in mezzo alla natura, ma da soli con il nostro nucleo familiare cambia tantissimo, ecco, tra essere soli o essere con i figli, con moglie, con animali domestici a seguito. Quindi sono tutte delle dinamiche che dobbiamo capire in primis come noi le affrontiamo e come noi rispondiamo a determinate cose. Chiaramente la consapevolezza situazionale aumentata è una cosa che ti porta a prevenire e a sentire con un largo anticipo determinati avvenimenti prima che avvengano. Ok. Tu sai che il fenomeno dei prepper è visto un po' in modo pittoresco, no? Cioè, penso, immagino che tu lo sappia. Assolutamente sì. Ok. Secondo te questa... Anche il survival. Esatto. È dato dal fatto che si è fatto un po' una macchietta dei prepper, appunto, che aspettano la fine del mondo e gli zombie, oppure il fatto che ci si concentri sul fatto che questa prevenzione viene vista un po' come, non voglio usare un termine forte, però, un po' paranoia. Cioè, nel senso, oddio, perché prepararsi con così tanto anticipo si ha la paranoia di qualcosa? Cioè, capisci quello che intendo? Da dove deriva? Ha già messo insieme tutte le cause. Ok. Allora, in primis, chiaramente tutto quello che fa notizia viene amplificato dai giornalisti. Certo. Allora, il fenomeno armi in Italia è inesistente, praticamente, perché non abbiamo possibilità di avere un porto d'armi per uso domestico o difensivo, come si può avere negli Stati Uniti. Per cui, il fenomeno armi in Italia si può scartare. Certo, c'è sempre quello che magari ha il porto d'armi e che si fa il selfie per sembrare più figo di quello che è con l'arma. E sono giustamente quelli che vanno a massacrare i giornalisti, però poi ha discapito di un'intera... Andiamo a finire di mezzo tutti quanti per quattro persone che hanno un atteggiamento di tipo militaristico quando non serve oppure che esagerano su determinate cose. La prima cosa è la prevenzione. Il prepper è una persona intelligente. Siamo tutti un po' prepper. Siamo prepper anche quando facciamo la spesa, andiamo all'Esselunga, alla Cona, dove andiamo a fare la spesa, e vediamo che c'è il 3x2 e prendiamo anziché 5 scatolette di tonno, magari ne prendiamo 10 o 15. Le mettiamo da parte, scadono dopo tre anni. In tre anni noi le avremo già mangiate, avremo avuto anche una rotazione delle scorte. Quindi, accumulare un pochino più cibo, un pochino più bevande, un pochino acqua, fondamentalmente, un pochino più generi di prima necessità che ci possono aiutare, acquistandoli al prezzo più basso, quando ci sono le offerte, letteralmente, e tenendoli da parte, se non occupa un grande spazio, è una cosa che si fa proprio senza neanche pensarci. Il problema è che molto spesso si mettono delle definizioni per inquadrare meglio, per definire meglio, e per cercare di illudersi, di comprendere meglio delle cose, ma dove finisce il prepper, dove inizia il survivalista? Anche i nostri nonni erano prepper quando facevano le scorte alimentari, solamente che non c'era ancora questa parola, non c'era ancora il rambo della situazione, che si faceva le foto con la K-47 imbracciato davanti ai giardini quando portava il cane, e allora, chiaramente, erano visti in maniera diversa. Una volta prepararsi a un'eventualità, poteva essere la normalità, appena usciti dalle due guerre. Adesso è una cosa che fino al 2019 si guardava un pochino con una certa perplessità. Dopo il 2019, devo dire che sono aumentate tantissimo le richieste per quanto riguarda i corsi di sopravvivenza fatti in un certo modo, e i corsi di prepping fatti anche questi in un certo modo, dove si insegna soprattutto l'atteggiamento mentale, la consapevolezza situazionale, le tecniche più psicologiche e logistiche che di accumulo del materiale. Ecco, che quello è abbastanza semplice, se vogliamo. Quindi, giusto per capire, il fatto che adesso ci sia un'iperinflazione, cioè iperinflazione, c'è un'inflazione molto forte, un prepper come si prepara a questa cosa? O si è già preparato a questa cosa? Allora, diciamo che subito dopo il conflitto con l'Ucraina, tra Russia e l'Ucraina, sono aumentati vertiginosamente circa del 30-40% già i prezzi dei mangimi agricoli e di tutto quello che riguarda il settore dell'agricoltura. Un prepper che ha una buona cognizione di causa non ha aspettato questi giorni a fare delle scorte, ma lo ha fatto prima. Ok. Perché ci sono quasi sempre dei segnali importanti, ecco. magari il Covid è stato un po' veloce per molti e ha preso, potrebbe aver preso anche in contropiede anche alcuni dei migliori prepper, però su tutto quello che non è un discorso totalmente inaspettato come quello della pandemia, diciamo che ci si prepara abbastanza, ecco. E non è essere paranoici, perché è esattamente il contrario, nel senso, ti faccio una domanda, tu sei più preoccupato quando vai in giro con l'assicurazione pagata o se magari ti è scaduta l'assicurazione in macchina? No, certo. Ammesso che tu vai in giro. Certo. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Nel momento in cui l'hai pagata non ci pensi più. Nel momento in cui hai scorte per un mese, per tre o quattro persone, che poi appunto le ricicli, per cui le prendi al prezzo più basso, se sai che la settimana, questa settimana la pasta non è in offerta, ma inizia la settimana prossima, dai fondo un pochino alle scorte, poi settimana prossima le riprendi. Tutto qua. Mi chiedo se... No, mi chiedo se il covid e il fatto di aver fatto tutti questi lockdown abbia un po' insegnato la gente a fare questa cosa. Cioè capisci, a fare scorte, a uscire poco, per fare spese, e prepararsi prima, o se finito il lockdown siamo tornati alla situazione iniziale. Tu prima dicevi che c'è stata una richiesta superiore per quanto riguarda le tecniche di sopravvivenza. Sopravvivenza e i corsi di prepping, sì. Esatto. Quindi una certa consapevolezza deve essere arrivata. Invece, riguardo al fatto della sopravvivenza, dei corsi di sopravvivenza, esattamente le tecniche più importanti da imparare, tra virgolette, in caso di cataclisma, diciamola così, quali sono? Giusto per capire... Allora, cataclisma su scala globale è più orientato a un discorso di prepping perché il prepper si prepara a un evento destabilizzante che abbia una durata in termini cronologici piuttosto importante. Ok. Per quanto riguarda il survivor, uno che vuole imparare tecniche di sopravvivenza si prepara a quello che può essere, non so, immaginiamo di attraversare una strada di montagna dove non prende il cellulare e si rompe la macchina. Ok. Quello è un esempio di situazione dove avere una buona padronanza delle tecniche psicologiche e pratiche di sopravvivenza ti può dare un vantaggio concreto perché uno non perdi la testa se succede una cosa del genere sai semplicemente che prima o poi ti verranno a cercare. Il discorso è scendere a patti con il proprio destino tra il prima e il poi quindi hai tutta una serie di strategie e di anche di in questo caso anche di oggetti tipo una copertina di emergenza la metallina classica è una cosa che do anche mio figlio per andare a scuola perché qualsiasi cosa succede con quella ti ripari da caldo da freddo che sono le due cose più pericolose in una situazione di sopravvivenza perché la gente è portata a pensare che si muoia di fame in una situazione di sopravvivenza ma si può stare senza mangiare per due o tre settimane tranquillamente si può morire di ipotermia molto rapidamente anche semplicemente cadendo in acqua o passando una notte al freddo quando magari soffia il vento che aumenta la dispersione termica e anche la percezione del freddo si può morire di colpo di calore se si attraversa ma anche banalmente se si va si fa dieci chilometri su una spiaggia per fare una passeggiata lunga e magari non si beve e c'è un po' di vento che ti disidrata ulteriormente ci sono tantissime situazioni dove in un che possono essere risolte efficacemente con delle delle strategie degli adattamenti molto semplici quello che insegniamo come prima cosa appunto sono l'approccio psicologico che fa tutta la differenza del mondo una volta superato e iniziate a fare delle pratiche che possono essere comunissime di meditazione yoga mindfulness respirazione che sono praticate tra l'altro anche dai corpi speciali che uno pensa che siano esclusivamente dedicati a un discorso fisico di allenamento ma la resilienza e il controllo dello stress per persone che devono schivare i proiettili è una cosa fondamentale quindi anche loro loro sono dei non so se hai mai conosciuto degli elementi dei corpi speciali legione straniera eccetera eccetera sono le persone più calme ma uno allora se tu sono le persone più calme che hai mai visto perché sono abituate a gestire una quantità di stress che è inimmaginabile in una situazione di normalità loro sono più che rilassate ecco sempre presenti attenti però più che rilassate per quanto riguarda il discorso delle altre tecniche da padroneggiare la prima cosa che insegniamo è come costruirsi un riparo o come farselo o come semplicemente portarsi dietro una metallina che è un oggetto che può salvare la vita istantaneamente un kit di primo soccorso da tenere in macchina negli altri paesi europei è obbligatorio però averlo dietro cioè nessuno di noi ce l'ha mai dietro nessuno di noi non prepper ce l'ha mai dietro però è una cosa che fa la differenza a me è capitato di bloccare un'emorragia una volta che non ce l'avevo perché ero in scooter semplicemente utilizzando la cintura di quello che si era reciso o la vena e facendo un tourniquet di emergenza lì dentro il tourniquet ce l'ho e lo so usare però sono sono delle cose che sono utilissime te ne accorgi sempre quando non li hai ecco della loro utilità all'ultimo momento però esatto però poi la costruzione del riparo poi la potabilizzazione dell'acqua perché bere è enormemente più importante che mangiare in cinque giorni massimo in tre giorni massimo tra i tre e cinque giorni puoi morire di sete se non bevi a seconda di quanto in che clima sei dove ti trovi geograficamente l'umidità il vento che c'è questo può accelerare la tua di partita o meno però è come si trova l'acqua come si potabilizza l'acqua queste e altre cose sono proprio alla base poi l'accensione del fuoco che è collegata strettamente anche alla potabilizzazione dell'acqua è un'altra cosa che insegniamo però si parte dalla testa dall'aspetto mentale perché è successo che abbiano trovato delle persone all'interno dei come si chiamano i raft i gommoni di emergenza che avevano ogni tipo di cosa razzi di segnalazione scorte alimentari qualsiasi cosa però non riuscendo ad adattarsi rapidamente ad una nuova realtà per loro morivano sulla sull'autopsia c'è scritto non c'è scritta la causa della morte si sono spente si sono spente perché non sono state in grado di adattarsi la capacità di adattamento e la consapevolezza della situazione sono tra le cose più importanti che possiamo insegnare ecco un corso di sopravvivenza è un punto di partenza mai un punto di arrivo allora da prepper chiudiamo con l'ultima domanda qual è la situazione o la cosa che tra virgolette pensate stia arrivando e per cui vi state preparando cioè qual è la prossima minaccia questo sto ti sto chiedendo ma questo allora se mai dovessi fare una puntata su un astrologo su un cartomante forse sarebbe più indicato che chiederlo loro ecco la prossima non nessuno di nessuno di noi lo sa ecco io escluderei gli zombie perché chiaramente per quanto amante dei film sugli zombie e della letteratura però zombie e vampiri li vedo un po' difficile alieni punto di domanda però uno non si può preparare una cosa che non conosce possiamo prepararci a quello che abbiamo già visto col covid cioè risorse alimentari che spariscono dall'oggi al domani con questa crisi economica che si rispecchia soprattutto nelle materie prime e nei combustibili anche anche una carenza di combustibile potrebbe essere una possibilità esattamente cioè il mio carissimo amico guarda il mio carissimo amico e collega Vincenzo Nigro col quale organizziamo i corsi di sopravvivenza che è un prepper assolutamente eccezionale ultimamente si sta informando sull'utilizzo della bicicletta per per gli spostamenti di emergenza perché effettivamente cioè ma anche con anche con la miglior tesla la miglior macchina elettrica che puoi avere se non gli metti i pannelli solari ti muovi poco poi magari cioè quindi con un mezzo tradizionale come quello che potrebbe essere una bicicletta che è anche abbastanza economico da acquistare si può spostare una famiglia da un punto o da una zona calda a una zona un po' meno a rischio perché fondamentalmente non è che devi fare la Milano Sanremo se succede qualcosa in un quartiere di Milano o di Torino devi toglierti dal pericolo la bicicletta può essere una soluzione più rapida che le gambe però ripeto sono tutte cose che vanno analizzate tutte situazioni impossibili e anche quando avvengono in acuto che vanno analizzate tempestivamente affrontate mettere delle regole su delle cose che sono anche un atto creativo alla fine è un po' difficile e riduttivo certo alla fine funziona quello che funziona ecco è certo perfetto grazie mille Fabrizio è stata molto molto interessante questa chiacchierata e con voi ragazzi invece ci vediamo dopo la sigla e anche questa intervista finisce qui io vi ricordo che vi potete iscrivere al canale cliccando sul pulsante qui sotto e che aspettiamo i vostri commenti per discutere un attimo sulla materia e che ci vediamo alla prossima intervista ciao ragazzi ciao